Buonasera a tutti e a tutte, siamo qui per presentare il libro di Massimo Carlotto, Trudi, l'ultima fatica di Massimo Carlotto e discutendo di questo libro anche affrontare le tematiche che stanno nello sfondo della vicenda raccontata da Massimo. Io come metodo proporrei anche che durante la nostra interlocuzione se ci sono domande o anche osservazioni o interventi da fare, si alza la manina e li facciamo in modo che sia una presentazione discorsiva, amicale. La prendo un po' alla lontana, il noir di Massimo Carlotto è molto particolare, originale, esce, a mio modo di vedere, dai canoni del genere e si avvicina, proprio per la caratteristica dei suoi romanzi, si avvicina a quella che oggi viene definita col termine letteratura working class. Perché dico questo? Perché in tutti i suoi romanzi c'è uno sfondo, un ritratto della società che indaga i mutamenti, i cambiamenti sociali, economici che si svolgono attorno alla vicenda che racconta. In questo ultimo romanzo in particolare stiamo parlando del mondo della logistica ma anche dell'affermazione ormai prepotente di quelle società che gestiscono dati, che gestiscono informazioni e che li gestiscono in funzione antioperai, antilavorativa, e che hanno rapporti molto stretti con la politica, con la finanza, con le banche. Dicevo che a mio modo di vedere il suo noir si avvicina e anzi può essere identificato con questa nuova definizione della letteratura working class proprio per questi motivi. Siccome recentemente questo termine, letteratura working class, ha avuto una sua platea molto importante nei due festival che si sono tenuti nella fabbrica occupata della GKN, organizzati dal collettivo GKN in collaborazione con la casa editrice Allegre, io credo che su questo potremmo aprire una prima interlocuzione. Io ho una mia opinione del termine e cioè io credo che questo tipo di letteratura non debba essere catalogata come una letteratura che esclusivamente è appannaggio di chi lavora nei luoghi del mercato del lavoro, ma è una lettura che si fa, ha un'origine nobile nella letteratura operaia, nella letteratura di classe, se pensiamo al vogliamo tutti i ballestrini, ma andando più indietro al metello di Pratolini. Insomma, una sensibilità, un'attenzione degli autori ai mutamenti che ci sono all'interno del mercato del lavoro e dell'organizzazione del lavoro. Mi è recentemente capitato di leggere, proprio per questo motivo, un libro che si chiama mecca di un'autrice americana, Susan Bright, la quale ci descrive come è la condizione degli immigrati centroamericani che vanno a lavorare nei campi, nella ricca California e le condizioni di lavoro di questi lavoratori che non hanno nessun diritto. Un po' questo mi ricorda una parte del racconto che è dentro a Trudi. Allora volevo chiedere, come prima domanda a Massimo, se questa mia osservazione può essere condivisibile oppure no, insomma. Innanzitutto buonasera a tutti e a tutti, grazie di essere qui per questa chiacchierata con Paolo su Trudi. Allora, c'è una riflessione che parte da lontano, che è legata al noir. Che cosa è il noir? Innanzitutto la distinzione con il romanzo poliziesco, dove il noir si trova a sovvertire la struttura narrativa del romanzo poliziesco e diventa una chiave per leggere la società. Cioè nel noir il crimine è una scusa per raccontare tutto quello che ci sta intorno, una sorta di lente di ingrandimento con cui l'autore osserva la realtà e la racconta. Questo è stato il primo passo ed è una eredità molto francese, molto manchettiana, se vuoi. Dopodiché però ci si è posto il problema all'interno del noir di che tipo di letteratura ci deve essere. Abbiamo una preponderanza da tempo, da almeno vent'anni in questo Paese, di letteratura consolatoria. Cioè di letteratura che va a risolvere continuamente le contraddizioni, ponendo sempre l'interesse dello Stato come principale. Allora, ponendosi questo problema è venuto fuori la necessità di una letteratura del conflitto. Al dibattito con il Gio di Prunetti e altri GKN sulla questione letteratura working class, noi siamo arrivati con questo tipo di concezione. Cioè la necessità di una letteratura del conflitto che sia in grado di leggere e raccontare le contraddizioni sociali, andando a raccontare quelle che sono le storie negate, cioè le storie che nessuno ti racconta, perché ovvio che c'è una selezione delle notizie da parte del mondo dei media, e dall'altra parte contraddizioni che siano legate quantomeno a movimenti esistenti o movimenti possibili. Questa, secondo noi, è l'idea della letteratura del conflitto. E quindi io sono arrivato anche a Trudi con questo tipo di idea, di concezione del romanzo noir. Il confronto con la letteratura working class è un confronto, se vuoi, abbastanza complesso, perché c'è chi dice che per essere letteratura working class, lo scrittore deve appartenere alla working class. E questo non è evidentemente possibile per un sacco di motivi. Però secondo me si può, si deve arrivare anche a una definizione teorica, perché quello che manca in questo periodo è una definizione teorica da sinistra di questo tipo di letteratura. Condivido. Infatti io credo che ci sia da un lato una concezione, almeno quella che si è espressa con Prunetti, con altri, un po' troppo ortodossa, diciamo, dogmatica della questione, mentre anche in questo romanzo c'è una visione più attenta ai cambiamenti nella società, perché oggi non può essere solo quello che è sporco, con le mani sporche di olio, che può scrivere della condizione operaria. Può essere anche chi analizza quella situazione. Nel tuo libro, infatti, c'è una parte molto forte che riguarda, che sono fra i protagonisti, che riguarda questo esercito di private, di contractor, di società private, al cui interno ci sono vari tipi di professionalità. dalle professionalità più basse, quelle che appunto arrivano dalle esperienze da buttafuori, da lavoro nelle discoteche, che sono assunti per svolgere la manovalanza più becera, diciamo, e che assumono anche un ruolo all'interno del libro. e poi ci sono le professionalità invece più alte, quelli che gestiscono i dati li sanno trovare, li sanno gestire, li sanno costruire i dossier su quei dati e li usano in funzione di quelle che sono le esigenze della committenza. e la committenza sono sostanzialmente i poteri forti da quelli imprenditoriali a quelli finanziari, bancari, a quelli politici. Come sei arrivato a questo tipo di analisi della situazione? Che tipo di quadro hai trovato per arrivare a questa definizione? Beh, innanzitutto è una storia che conosciamo perché parte da lontano, parte dalla Fiat, dei famosi guardioni della Fiat. Poi negli anni abbiamo visto che la sicurezza privata si è nutrita mano a mano di ex. Per esempio, qui abbiamo visto proprio in Veneto altri ufficiali carabinieri che a un certo punto sono passati come responsabili di sicurezza nelle banche. lo stesso De Gennaro, da capo della polizia, ha fatto questo salto di qualità. Quello che si è evidenziato nel tempo è che la privatizzazione della sicurezza dal punto di vista tecnologico è la conseguenza diretta della privatizzazione della guerra. Cioè quel tipo di tecnologia poi è stata assorbita dal mondo della sicurezza. è un mondo della sicurezza che lavora esclusivamente per tutelare gli interessi della classe dirigente. Mi sono particolarmente interessato a quello legato al mondo del lavoro. Perché il mondo del lavoro, per esempio, quando prendo l'incarico un'azienda, si occupa dell'azienda dall'attacco hacker all'avvertenza sindacale, ma anche sul piano reputazionale in caso di un'indagine della magistratura. Cioè prendono a pieno carico quello che è la sicurezza, ma in un senso molto allargato. E qual è il primo punto? Spiare i dipendenti. In nome della caccia ai dipendenti infedeli c'è uno spionaggio che però è assolutamente illegale. Cioè tutte queste strutture si muovono su un terreno tra legalità e legalità che è molto labile, ma soprattutto oltrepassano il limite e agiscono in modo illegale. Questo tipo di struttura, da un lato, è molto evidente nel senso che quello che si occupa della guardiania, la guardiania notturna è anche la prima fila rispetto alle ventezze sindacali. E qui abbiamo un esempio incredibile. Il secondo livello è quello che invece gestisce questo tipo di strutture anche di strutture totalmente illegali. Perché se per esempio andiamo a vedere l'ultimo scandalo, quello della Dior, la Dior aveva un laboratorio illegale gestito da un cinese senza documenti, senza permesso di soggiorno, a opera nel milanese e lì venivano prodotte queste borse che costavano 53 euro l'una e venivano vendute in negozio a 2.600 euro. Quindi sfruttamento, sfruttamento, i lavoratori dormivano in posti, il giudice scrive al di sotto dei limiti etici. Dior ha aperto la stura e probabilmente verranno messe sotto inchiesta tutte le aziende del lusso per questo modo assolutamente illegale di produrre. Bene, se tu vai a vedere le agenzie che proteggono queste aziende sono sempre le stesse ed è impossibile che non sia una conoscenza dei livelli legali perché gestiscono complessivamente tutto. Quindi quando parli di queste strutture parli di una... nei romanzi nel romanzo io gli chiamo i pretoriani ma perché fra di loro si chiamano pretoriani cioè loro sono quella cosa lì sono la cosa al di sotto della classe dirigente che ne tutela gli interessi a qualsiasi costo. Infatti una cosa interessante che ho trovato nel raccontare come agiscono queste agenzie c'è questa cosa che l'uso della violenza ad esempio anche quella estrema è evitata al massimo cioè nel senso che non è utilizzata costantemente è utilizzata in termini più sofisticati cioè attraverso l'uso dell'informazione attraverso la denigrazione che so del personaggio che può essere in quel momento pericoloso per loro cercando di ricattare chi può essere un nemico in quel momento ma cercando di evitare la punta di rottura cioè l'omicidio la violenza più forte eccetera anche se poi avvengono delle cose attorno non sono mai direttamente volute dalla direzione di queste agenzie perché appunto si muovono su un altro piano su un piano di relazioni sì di relazioni nel senso che poi loro spiano individuano dopodiché se serve arriva il foglio di via sì c'è proprio questa pratica di foglio di via rispetto ai sindacalisti e quindi voglio dire è una pratica comune evidentemente c'è un rapporto e fa parte di un unico disegno di controllo delle vertenze del conflitto sindacale e questo l'abbiamo visto in tantissimi casi per esempio ed è molto interessante analizzare la sicurezza privata rispetto alla GKN quando c'è stato il festival sopra di noi c'erano i droni di questa agenzia di sicurezza che filmava continuamente chiunque ci fosse filmava spiava catalogava e ovviamente poi le informazioni si passano il fatto che siano tutti ex ex forze dell'ordine che poi diventano entrano nel mondo del privato è ovvio che c'è un passaggio non solo di informazioni ma anche di favori c'era già raccontato la cronaca e quindi è un tipo di situazione è ormai una bisogna pensare alla sicurezza privata come un'articolazione precisa rispetto al controllo del conflitto perché loro fanno esattamente questo mestiere dopodiché si occupano anche delle protezioni come citavo prima degli hacker ma all'interno di un mondo legislativo che è molto incerto impreciso zoppicante per esempio questa cosa che un imprenditore può andare all'estero e viene accompagnato da personale ex forze speciali con armamento da guerra io non credo che sia così legale come non credo che sia legale il discorso di spiare in quel modo sistematico evidentemente ormai c'è questo mondo che tra l'altro è interessante notare che si è sviluppato a dismisura nella nostra società io sono andato a controllare non c'è un solo articolo uscito negli ultimi 15-20 anni che parla di questo mondo del suo sviluppo cioè alla società cosa ha detto diamo per scontato che il nome della sicurezza no si possa commettere qualsiasi violazione metti del codice ma anche di ogni livello di decenza politica e così è stato sì mentre la violenza la si trova nel dispiegata nel diciamo in questo caso nel mondo della logistica che tu dove tu hai collocato alcuni dei personaggi o che comunque hanno una relazione con quel tipo di mondo dove la violenza invece è chiara c'è la violenza diciamo dell'uso della repressione del foglio di via dell'intervento ma anche la violenza spicciola nei confronti di chi troppo si diciamo si espone in difesa dei lavoratori e di una realtà che tu descrivi e che mi sembra tu abbia pescato a piene mani anche dalla relazione che hai con il mondo del sindacalismo di base che lavora su questo tipo di settori una violenza appunto che è fatta proprio che è legata al sistema della logistica gli appalti i subappalti i lavoratori in gran parte lavoratori stranieri lavoratori che molto spesso sono in condizione di ricatto perché hanno il permesso di soggiorno oppure sono in attesa di permesso di soggiorno o ancora peggio sono richiedenti asilo cioè una situazione dispiegata di di violenza e di super sfruttamento quasi un lavoro semiservile in alcuni in alcuni casi e questa realtà tu la 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 certifichi anche se non sembra che non ne parli direttamente nel racconto ma è ben precisa nella tua storia insomma guarda finora ho fatto un 35 presentazioni e ho notato che una delle cose colpisce di più colpisce di più perché è una cosa che non è raccontata dei media ma è solo a livello locale oppure nel giro del sindacalismo di base colpisce molto il fatto che gli unici cioè che il vero obiettivo delle violenze è il sindacalismo di base l'unico obiettivo dei fogli di via è il sindacalismo di base quindi esiste un sindacalismo di tipo conflittuale che voglio dire è oggetto di violenza io nel romanzo ho messo anche i nomi io parlo di tre casi uno assolutamente inventato che è quello di Sabatini ma altri due che sono assolutamente veri ho messo proprio i nomi è una roba incredibile che quando vai a recuperare le informazioni su quanto è successo non mettono neanche il nome e cognome mettono il nome no? perché sono stranieri sono pakistani gli si dà il tuo sì semplicemente il nome e la cosa è interessante poi vedere da chi è praticato questo livello di violenza ce ne sono due uno è quello dei cinesi sono bandi di cinesi incappucciati che aggrediscono i sindacalisti e allora che ruolo hanno i cinesi? stiamo parlando del metadistretto della moda del pratese e del mondo della logistica della toscana che ruolo hanno? loro hanno il ruolo di gestire i laboratori clandestini ma i proprietari dei laboratori sono italiani i commercialisti che aggiustano le cose da un punto di vista fiscale sono italiani è un sistema cioè non è che ci sono i cinesi staccati e il resto che ci sono no fa parte tutto di un di un sistema ed è quello che il sindacalismo di base sta denunciando da un po' di tempo è il mio mi trovo si sente male sentiamo più lontano così sì così 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 si sente così sì si sente ma il mio si sente sì vabbè un po' più vicino così ok va bene sì infatti ci sono stati moltissimi casi anche qui a Padova simili a quelli che stai raccontando tanto tu a me è capitato in vari dibattiti in cui sono andato recentemente in luoghi della bassa padovana dove stanno per sorgere vari piccoli centri logistici a Tribano come a Maserà e in tutti questi posti io ho portato un po' l'esperienza cioè la conoscenza di questo di questo mondo lavoratori per lo più stranieri molto spesso richiedenti asilo che sono costretti a raggiungere il posto di lavoro col monopattino o in bicicletta che fanno orari più dispiarati dove che se non c'è una presenza sindacale di base vengono trattati molto male e così via cioè una una realtà che la gente che ascoltava che era venuta per protestare contro la diciamo il consumo di suolo del dovuto al progetto del polo logistico non conosce e che rimane molto stupita da questo fatto e che magari siccome li vede girare in col monopattino in bicicletta allora associano a quel punto dopo che gliel'hai detto associano questa situazione ma prima in quel momento sono assolutamente non a conoscenza di una situazione di una realtà di super sfruttamento insomma che è presente e quindi nel tuo libro questa cosa compare insomma e come tu dicevi non c'è informazione su questo c'è solo una presenza laddove c'è di sindacalismo di base in questo nel Veneto la DL in particolare e non c'è una presenza per esempio del sindacato confederale che invece fa un lavoro completamente diverso all'interno di questi luoghi insomma sì è un'assenza diciamo allora questa questione del lavoro nel romanzo allora io credo che sia il primo romanzo noir che introduce il tema del lavoro attraverso letto da un episodio criminale questo perché continuando la riflessione che abbiamo fatto all'inizio all'interno del discorso della letteratura del conflitto è importante riportare il lavoro nella letteratura perché la letteratura ha abbandonato il tema del lavoro da troppi anni la letteratura non è più in grado di raccontare il lavoro e questa secondo me è anche una delle cause che ha portato anche al fatto di si sente meglio così che ha portato il fatto di dell'abbandono di molti lettori perché i lettori si sono stancati di leggere una letteratura che guarda proprio un belico e non è in grado di raccontare la realtà che la gente vive quotidianamente e quindi questo è una questione è una dimensione estremamente osteggiata dall'industria culturale un tempo noi lo chiamavamo mondo della cultura ecco quello non esiste più esiste un'industria culturale che ha due obiettivi quello di promuovere prodotti vincenti da un punto di vista mercantile ma estremamente consolatori cioè che fanno vedere la società in un determinato modo e dall'altro prodotti che servano al consenso di questo tipo di democrazia riportare il lavoro nella letteratura è una dimensione fortemente versiva rispetto alla letteratura quindi anche il ragionamento che stiamo facendo anche come annualisti in generale è quello di riprendere ogni volta alcuni temi legati al lavoro perché per esempio ho visto con Trudi che la gente si interessa realmente sì se c'è io aprirei anche la discussione se volete insomma noi abbiamo un po' sviscerato la questione se ci sono interventi o domande se no io continuo su questo sul discorso che stavi facendo è più una lettura quella che tu fai del mercato del libro della produzione del libro italiana o più generale perché a me sembra ad esempio che in Inghilterra soprattutto nei paesi anglosassoni rimane una fascia di autori che affrontano la questione del lavoro o comunque la dimensione sociale del lavoro penso a Cartwright penso o piuttosto ad altri insomma anche alcuni autori scozzesi oppure anche gli autori degli appalacchi americani che parlano di una condizione seppur di vagabondi di precari eccetera però analizzano partendo dalla loro condizione o di reddito o di lavoro si guarda ho fatto una lunga discussione su questo con lo scrittore americano Chris Hoffut che proprio parla degli appalacchi che è veramente un grande è un grande l'idea che si ha anche rispetto a quella che è la letteratura working class inglese che è la letteratura più interessante da questo punto di vista è il fatto che tu inizi un discorso il discorso diventa mercato il mercato viene assorbito è quello che è successo con moltissime spinte all'interno del mondo culturale funziona così se tu parli con gli editori a oggi gli editori guardano già alla possibilità di aprire un discorso working class all'interno delle proprie collane basta che ci siano lettori no? questo è un pericolo grossissimo secondo me che non significa rimanere esterni perché non puoi rimanere esterno l'industria culturale perché è l'unico meccanismo che ti permette di venire a contatto con i lettori il problema è il discorso della qualità del messaggio questo è un discorso che abbiamo fatto con i Vuming già aperto i Vuming tantissimo tempo fa che continua a essere un dibattito cioè come rapportarsi a un'industria culturale che è in grado di fagocitare qualsiasi movimento culturale farlo proprio e venderlo e questo voglio dire c'è e sarà voglio dire e non lo fanno le piccole case editrici adesso quando Mondadori che significa Inaudi Rizzoli si accorgeranno le letterature working class faranno esattamente questo e quindi il ragionamento che si faceva con Chris Offit era quello di dire sì adesso però cominciamo a pensare come stare all'interno di questo mondo della cultura lui pensava io ovviamente agli Stati Uniti io all'Italia e proporre proporre questa che è letteratura del conflitto anche perché come hai visto da leggendo Chris Offit lui pone il conflitto in maniera molto precisa come necessità proprio all'interno del mondo americano per risolvere alcune contraddizioni certo niente io vi invito ancora qualcuno ad intervenire anche sul che hanno testimonianze sul mondo del lavoro c'è un com' vieni vieni grazie no io non ho testimonianze da fare niente interessante da dire ho una cosa da chiedere volevo chiedere a Massimo Carlotto se ritiene che la letteratura disimpegnata la letteratura consolatoria è una letteratura di serie B o se intrattenere per intrattenere è un modo legittimo di fare letteratura così come impegnarsi politicamente con la letteratura in altre parole la letteratura è impegno politico è intrattenimento dispensierato o è quello che vogliamo che sia grazie la letteratura secondo me si divide tra libri buoni e libri meno buoni questa è la discriminante di fondo i libri consolatori sono estremamente buoni ottimi basta che siano scritti bene io ne sono un gran consumatore il problema è un altro il problema è la preponderanza all'interno del mercato cioè per esempio noi vediamo all'interno del noir che continuano a proporre una struttura narrativa dove c'è un crimine un'indagine una soluzione la soluzione è sempre consolatoria e che rimette a posto il caos determinato dal crimine ed è consolatoria anche nei confronti delle ansie del lettore questo meccanismo è un meccanismo che va benissimo ma non può essere unico perché la letteratura comunque secondo me deve essere perturbante deve entrare in conflitto anche tra autore e lettore nel senso che la letteratura perturbante è fondamentale per porsi alcune domande il problema di fondo è che poi vengono scelti alcuni temi piuttosto che altri tanto che oggi molti autori esordienti si autocensurano si autocensurano vorremmo proporre un'altra lettura della società ma si autocensurano perché sanno che cercano disperatamente di riuscire a pubblicare per cui la letteratura non è mai neutra non è mai neutra e questo è secondo me la base da cui partire sul ragionamento ciao buonasera io volevo proporre un altro tema un po' diverso perché nel libro emergono anche delle figure femminili importanti e emerge un po' attraverso queste figure femminili emerge il tema dell'emancipazione femminile senza raccontare troppo comunque ci sono delle figure forti volevo chiederti una riflessione a riguardo ecco beh nel romanzo le figure femminili sono le uniche figure positive le figure maschili i personaggi maschili provengono da mondi dove la cultura del patriarcato è dominante ed esprimono esattamente quello dall'altra parte invece c'è un discorso di non solo di emancipazione ma anche di solidarietà tra donne che diventa l'unico elemento vincente all'interno della storia ed è mi è piaciuto molto scrivere il personaggio di Trudi che è un personaggio che cresce all'interno del romanzo ma a un certo punto capisce che se non incontra altre donne in grado di aiutarla da sola non ce la farà mai e questo secondo me è un punto importante e poi anche costruire figure che possono essere considerate minori dal punto di vista della presenza all'interno del romanzo ma secondo me sono molto importanti tipo la struttura vabbè stavo spoilerando mi taccio ma comunque c'è la figura di Serena la moglie di un sindacalista anche lei sindacalista sempre sindacalismo di base che comunque è diventa una figura di riferimento importante all'interno del romanzo io credo che scrivere oggi dell'universo femminile all'interno dei romanzi per un autore sia la cosa più interessante allora io non ho una domanda però una riflessione nel senso era un complimento perché insomma noi che facciamo parte della DL abbiamo letto questo libro e abbiamo trovato non soltanto il mondo del lavoro che conosciamo e conosciamo di più che viene spiegato benissimo c'è il mondo degli appalti dei subappalti dei magazzini della logistica del distretto pratese ma anche le lotte la complessità delle lotte la violenza che viviamo molto molto frequentemente e questa cosa per noi penso che sia una delle prime volte uno dei primi libri che racconta sicuramente il primo libro che racconta il mondo del sindacalismo di base con una grandissima conoscenza che ovviamente è il frutto del fatto della relazione che insomma con te stiamo costruendo a partire dalla vicenda di Grafica Veneta la cosa che secondo me è veramente molto molto interessante è veramente questa capacità di leggere in maniera interna come se fosse un racconto di un sindacalista quello che succede quando leggevo alcune vicende vedevo le singole aziende dove erano successi determinati fatti nel distretto pratese dove tutta quella violenza anzi c'è stata molta più violenza di quella che viene raccontata perché ovviamente in quel distretto per anni chi ha fatto sindacato sindacato di base insomma i nostri compagni i nostri compagni di Prato e di Firenze hanno vissuto livelli di violenza altissima da parte di queste società private ma senza anche la raccontare troppo si leggeva all'interno anche le esperienze di lotta della GKN ci sono riferimenti che rimandano a quello ma ci sono riferimenti che rimandano anche al mondo anche alle condizioni di lavoro di chi vive nel settore diciamo più sfigato della della sicurezza privata chiamiamolo così che è il mondo della vigilanza privata dei servizi fiduciari quelli che proprio sono gli ultimi di questa catena di controllo dove è interessante una battuta che mi è rimasta impressa in cui praticamente viene fuori che non mi ricordo più chi però parlando di un collega della vigilanza privata gli dice ma hai visto cosa succede le lotte adesso anche quelli della vigilanza privata dei servizi fiduciari che hanno delle paghe di merda adesso stanno facendo delle lotte e quelle sono le lotte che anche come noi come ADL abbiamo costruito quindi un libro che sono sempre molto belli i tuoi libri ma questo che per noi è stato veramente un libro che racconta la nostra storia e ne siamo anche molti orgogliosi del rapporto che stiamo continuando a costruire assieme devo dire che grazie queste belle parole devo dire che questo romanzo deve molto anche alla relazione che sto costruendo nel tempo con ADL quello che è importante sottolineare è che comunque l'ADL col discorso tra il mio romanzo e i due fumetti quello già pubblicato quello che verrà pubblicato sta diventando una sorta di polo culturale all'interno del sindacato secondo me il sindacalismo di base che è una cosa molto interessante perché anche uno scrittore può trovare casa all'interno di quel mondo perché è un mondo che comunque produce cultura produce cultura e c'è un confronto diretto da questo punto di vista secondo me si sta costruendo un'esperienza molto importante e molto interessante su questo ci sono altre domande osservazioni io volevo dire rispetto all'intervento di prima su Trudi e sulle altre figure femminili nel libro si nota proprio bene secondo me la crescita di personalità sia di Trudi delle altre della moglie del sindacalista se non mi sfugge il nome c'è proprio una crescita della loro presenza nel libro anche come presa di coscienza come maturazione del personaggio che inizialmente sembra tutto sommato la vittima o comunque più o meno interessata a cose banali che invece progressivamente diventa la figura ovviamente più importante che è poi anche data dal titolo del libro però secondo me forse non l'hai fatto a caso di dargli un nomignolo che è banale ma che invece lei banale non è insomma la pensano banale le danno questo nomignolo per me è stato un omaggio a Trudi e a Gamba di Legno che sono i due personaggi più simpatici dell'universo disneyano quindi però sì ovviamente la sottovalutano perché è una donna e invece magari succede qualcos'altro sì esatto vabbè io se ci sono altre domande volentieri se no avremmo io avrei esaurito le domande mie vi invito a leggere il libro c'è anche qui ovviamente e terminerei qui ringraziando Massimo per la disponibilità e buonasera a tutti e buon divertimento con la festa grazie buonasera grazie a tutti grazie a tutti